salve ragazzi andiamo oggi a vedere come possono essere gli angoli abbiamo visto nel video precedente cos'è un angolo e come lo si definisce vediamo ora i diversi tipi di angoli partiamo dall'angolo retto andiamo a prendere i nostri due segmenti che formeranno il nostro angolo l'angolo retto è quest'angolo a sediolina diciamo riusciamo a vedere un angolo retto molto comunemente nella vostra nella nostra vita è l'angolo di un foglio di un quaderno di un libro di un tavolo di una sedia quindi è un angolo che vediamo spesso quest'angolo si chiama retto ed ha un'ampiezza di 90 gradi gli altri angoli ovvero quelli acuti e quelli ottusi si definiscono più grandi o più piccoli di un angolo retto ecco perché dobbiamo partire da quello retto andiamo a formare un angolo acuto l'angolo acuto è più stretto di un angolo retto quindi avrà una forma del genere ma anche questo è un angolo acuto anche questo è un angolo acuto e anche questo lo è come vedete la cosa fondamentale è che sia più stretto di un angolo retto si chiama acuto perché se vedete appuntito forma una sorta di punta in qualunque misura lo facciamo largo stretto basta che sia più piccolo di questo retto di 90 gradi e automaticamente è un angolo acuto può essere di 89 gradi ma può essere anche di un grado e in quel caso sarà strettissimo proviamo a farne uno per renderci conto ad esempio questo è un angolo di pochissimi gradi è comunque acuto ma anche quello di 89 lo è in quanto ha una misura inferiore ai 90 gradi passiamo a vedere cos'è invece l'angolo ottuso l'angolo ottuso è più grande dei 90 gradi lo andiamo a disegnare così il nostro vertice è lì e lo allarghiamo di più rispetto al nostro retto di conseguenza è un angolo ottuso un angolo di 91 gradi ma lo è anche un angolo di 179 gradi quest'angolo è comunque ottuso e sarà di un'ampiezza di 179 gradi quindi gli angoli possono essere a partire dall'angolo retto che lo usiamo come angolo come modello base possono essere più stretti dei 90 gradi o più grandi dei 90 gradi se sono più stretti saranno angoli acuti se sono più grandi sono angoli ottusi tra gli angoli ottusi ne dobbiamo andare a vedere di due tipi speciali l'angolo piatto è un angolo che misura esattamente 180 gradi ovvero è una linea retta lo individuiamo come fosse una un'unica linea ma non dobbiamo dimenticarci che al centro c'è comunque il punto d'incontro ovvero il nostro vertice se questo è il vertice del nostro angolo questo è il primo lato questo è il secondo sono comunque due segmenti AV e VB che formano un angolo l'angolo però ha i due lati che appartengono alla stessa retta quest'angolo sarà grande precisamente 180 gradi quindi oltre ad essere un angolo ottuso perché maggiore di 90 gradi si dice piatto un altro angolo speciale che adesso qui andiamo a vedere è l'angolo giro l'angolo giro proviamo a farlo con due segmenti di colori diversi per renderci conto partiamo dal nostro primo segmento quello in verde ne sovrapponiamo un altro nel vertice immaginiamo che questo segmento grigio faccia il giro di tutto il piano e ritorni al punto di partenza facciamolo scivolare ancora un po di più e lo facciamo ritornare sul punto di partenza il nostro segmento iniziale lo chiamiamo AB il segmento grigio visto che la corrisponde lo chiameremo AC durante tutto il suo giro vediamo che il segmento AC che era partito da questa posizione si va a sovrapporre perfettamente con B e come potete vedere l'angolo ha fatto un giro completo intorno al vertice A partendo da qui partendo da qui ha fatto un giro è arrivato ad essere angolo retto ma poi si è allargato rispetto all'angolo retto ed è diventato un angolo piatto ha ancora continuato il suo giro di un altro angolo piatto al contrario ed è ritornato al punto di partenza quest'angolo ha compiuto un giro di 360 gradi l'angolo di 360 gradi che si rappresenta con un'unica linea soltanto che gli estremi B e C sono sovrapposti ovvero coincidenti quest'angolo si chiama angolo giro con gli angoli per il momento è tutto ci aggiorniamo prossimamente su altri video di geometria ciao ragazzi